E' un'apparecola. Ma se ne andrò qui? A divertirsi sicuramente? Beh, a divertirsi sì, discusa, non lo metto. Ma... Quanta cosa che ti fai? E' un'apparecola, Bob Marley. Qui vai... E' andata anche a Trieste. Ah, mi piace. Sì, sì, tutti i martedì. La settimana scorsa, se partì a martedì... non avevo fatto bene il plumba. Sì, si passa per poco a mare. Non si può andare a vedere. E' un'apparecola. E' un'apparecola che manca il regista. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. C'è, credere è... C'è, credere è la luce dei poveri. Sì, sempre ha una mattita davanti. E' un'apparecola. E' un'apparecola. No, 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 no. E' un'apparecola. E' un'apparecola. Non è vero? No, sì. Che ho fatto che ho fatto... Ho fatto che già la sua... Ho fatto un'apparecola, perché ho fatto un'apparecola. Però ho fatto un'apparecola, tanto che ha... Ho fatto un'apparecola... ... Ho fatto un'apparecola... ...